Non riesci più a ricevere le email del tuo sito WordPress? Bene, io sono Roberto Marchesini di wpvincente.it e oggi ti vorrei spiegare come puoi risolvere questo problema andando ad utilizzare una tua casella di posta elettronica per inviare le email del tuo sito web. Per fare questo andremo ad utilizzare un plugin completamente gratuito per WordPress. Ma passiamo subito all'azione. Allora, il plugin che andremo ad installare sul nostro sito si chiama wp-mail-smtp. Questo plugin qui. Dunque, quello che devi fare è semplicemente andare sul tuo pannello di amministrazione andare su plugin, aggiungi nuovo qui sulla barra di ricerca naturalmente andiamo a scrivere wp-mail-smtp e il plugin è questo qui. Lo andiamo ad installare ed attivare sul nostro sito. Come vedi questo plugin è molto famoso attualmente ha quasi un milione di installazioni attive. Ora, una volta che il plugin è attivo devi andare su impostazioni wp-mail-smtp dunque vai a cliccare su questo link e qui devi andare ad impostare l'indirizzo email che vuoi utilizzare per inviare appunto le email con il tuo sito web. Io nel mio caso ora andrò ad utilizzare un indirizzo di posta elettronica che ho su gmail. Quindi qui vado ad inserire il mio indirizzo di posta che ho su gmail qui vado ad inserire il nome di chi invia l'email nel mio caso vado a scrivere il mio nome. Una volta fatto questo vado a mettere la spunta su gmail qui andiamo a mettere la spunta su questa voce mi raccomando che è obbligatoria e ora dobbiamo andare a configurare il nostro account di gmail. Per fare questo devi andare a cliccare su questo link e ora devi andare a seguire la procedura che è stata scritta all'interno di questo articolo. Non ti preoccupare se non conosci la lingua inglese che vediamo subito come fare. Dunque step 1 l'abbiamo già fatto quindi siamo arrivati a questo punto qui. Ora quello di cui abbiamo bisogno è il client secret e il client id che sono questi due dati qui giusto? Dunque seguendo l'articolo dobbiamo andare a cliccare su questo link quindi clicchiamoci qui da questo menu a tendina mi raccomando che deve essere selezionato crea un progetto clicchiamo sul pulsante continua qui andiamo a selezionare appunto gmail api poi da questo menu a tendina andiamo a selezionare server web qui mettiamo la spunta su dati utente e clicchiamo su questo pulsante qui qui come nome se vuoi puoi andare a scrivere gmail qui dove ti viene richiesto origini javascript autorizzate e vuoi andare ad inserire l'indirizzo web del tuo sito dunque nel mio caso è wpvincente.it quindi lo vado a scrivere qui e su questo campo qui invece devi tornare sul tuo pannello di amministrazione di wordpress e devi andare a copiarti questo link qui quindi ti lo va a selezionare copia torniamo su questa pagina e andiamo ad incollare il link e clicchiamo su questo pulsante qui da questo menu a tendina va a selezionare l'indirizzo email che vuoi utilizzare per inviare le mail con il tuo sito e qui su questo ultimo campo va ad inserire il nome del tuo sito web nel mio caso wpvincente e clicchiamo su continua ed ecco qui che come vedi ci viene fornito il nostro client id andiamo a selezionare tutto questo codice qui lo andiamo a copiare torniamo sul nostro sito e lo andiamo ad incollare su client id torniamo sempre su questa pagina qui andiamo a cliccare su lo farò in seguito qui andiamo a selezionare la nostra applicazione gmail e come vedi da qui puoi trovare anche client secret copiamo anche questo codice e lo andiamo ad incollare dove ci viene richiesto clicca infine su salva le impostazioni ora dobbiamo andare a cliccare su questo pulsante andiamo a selezionare il nostro account di gmail e andiamo a premere sul pulsante consenti ottimo come vedi abbiamo collegato correttamente le app di google al nostro plugin l'ultima cosa che devi fare è andare a verificare che il tuo sito web invii correttamente le email utilizzando il tuo account di gmail dunque andiamo su email test qui andiamo ad inserire un indirizzo email dove vogliamo ricevere le email di test e andiamo a cliccare su invia email ecco come vedi l'email è stata inviata con successo vediamo se è vero vado ad aprire la mia casella di posta elettronica ed ecco qui come vedi sulla mia casella info-wpvincente.it è arrivata l'email di test come hai visto questo plugin non è che sia proprio così semplice da impostare ad ogni modo spero che questo video ti sia stato di aiuto e se tu sei andato incontro a dei problemi puoi lasciarmi il tuo commento sotto a questo video sarà un piacere per me aiutarti bene siamo arrivati alla fine di questo video e se sei interessato alla piattaforma a wordpress cosa mi dici di scaricare il mio manuale completo a wordpress che ti guida con la creazione e gestione del tuo sito web con tanto di immagini puoi scaricare questo manuale andando all'indirizzo wpvincente.it slash manuale penso proprio che ci sarà di grande aiuto con questo io ti saluto e mi raccomando di iscriverti al mio canale di youtube per non perderti i prossimi video ciao 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 ciao